Nella quarta riandata del girone B del campionato di promozione, sfida interessante al Pallozzi tra il Sulmone e il Fossacesia di Brettone. I biancorossi proveranno ad incidere maggiormente in attacco, visto che riescono a concretizzare poco le opportunità. Il tecnico Candiro di Felice fa affidamento sul gruppo e sul bomber a Francesco Pizzola a segno domenica insieme ad Aquilio nel 2-2 contro la Sportland Celano. I padroni di casa sperano nella prima vittoria stagionale, contro però un osso duro come il Fossacesia che, reduce dal successo contro il Bucchianico, in classifica si trova a 5 punti senza aver mai perso. La matricola Virtus Pratola sarà impegnata nella trasferta contro l'altra neopromossa Ortona, attuale capolista del girone. I padroni di casa cercheranno di allungare per tentare la prima fuga del campionato. I pratolani però, nonostante la squalifica di Scelli, faranno il possibile per conquistare un risultato positivo e dare seguito così al pari della scorsa domenica contro la Val di Sangro. I sangrini domani saranno l'avversario del Raiano, i peligni, reduci da 2KO e con la gara contro il Casalbordino ancora da disputare dopo due rinvii consecutivi, intendono risalire la china con l'auspicio di abbandonare l'ultimo posto in classifica. La sfida offrirà uno scontro molto interessante in attacco tra il bomber Soria e l'argentino Manno col fiuto del gol.